Ecco, questa è la vostra forza, perché dobbiamo essere cristiani per questo, perché sappiamo che dopo la vita è breve, c'è dall'interno. Dovrei mettervelo nel cuore, quasi facendo un'operazione, perché in quel senso di fatto io in questo momento provo un cuore, la provo solo se penso in un giorno, potrò rivedere lui, potrò rivedere le cammine, potrò rivedere tutte quelle persone che già domenica scorsa abbiamo ricordata, tutti quanti insieme. Questa omelia Don Fabio Moriello non avrebbe mai voluto farla e non a caso non trattiene le lacrime nel ricordare quegli abbracci silenziosi e intensi con Flavio Puleo, che con la sua morte lascia un vuoto, ma tanti insegnamenti, tante azioni concrete come la sua battaglia per di diversamente abili, che lui ha reso insuperabili. Quegli insuperabili che lo aspettano nella chiesa di Sant'Ippolisso e da Tripalda per l'ultimo saluto, insieme agli Ultras della Sud che riescono a stento a intonare un coro vista l'emozione profonda e il dolore che li accompagna. Flavio, 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 Fl che in cielo non esistono stadi e chiedendo a Flavio di aspettarlo nella pace del paradiso. La commozione è tanta anche quando il nipote racconta i tanti insegnamenti di Puleo, i due anni di lotta intensa, a testa alta, senza lamenti, senza rabbia, ma solo con la voglia di vivere e di non mollare. Ed allora, ora che Flavio Puleo non c'è più, è doveroso continuare a portare avanti i suoi insegnamenti e la battaglia per gli insuperabili, intitolandogli la Curva Nord. sarebbe un piccolo grande passo per tenerne sempre viva la memoria.